Ottobre e sin dagli anni 60 il mese dedicato alla missione universale, rispondente al bisogno di conoscere, studiare, meditare e vivere la vocazione che vi è alla base. E' stato questo l'intento dell'incontro tenutosi la scorsa domenica nell'antico monastero Santa Maria delle Vergini di Bitonto. Madre Maria Carmela Modugno ha accolto l'idea di ospitare in monastero l'iniziativa missionaria proposta da Suor Graziana Morelli e da Nicola Bondanza, presidente del Cenacolo dei Poeti. Suor Graziana, che ha maturato la sua vocazione negli anni 80, prima a Palombaio grazie a padre Gianfranco Brignone e poi a Brescia con la congregazione delle Suore Missionarie della Società di Maria, ha condiviso con i presenti la sua testimonianza di vita missionaria in Senegal. Qui opera da circa due anni nella missione di Gedi Hawaii, dove sta cercando di avviare progetti di lavoro per giovani a rischio devianza, grazie a delle donazioni. Motivo per cui è stato lanciato a dicembre scorso, in collaborazione con il Cenacolo dei Poeti, il concorso Una Poesia per il Senegal. Al termine dell'incontro della scorsa domenica sono state declamate alcune delle poesie che hanno partecipato al concorso. In particolare Vito Tricarico di Palo del Colle, che ha letto il suo testo sul Senegal e poi è stata la volta di Nunzia Rinaldo di Ginosa, vincitrice della sezione preghiere, con Madonna della Forza. Una riflessione sul valore della missione è stata espressa anche attraverso il dialogo di Suor Graziana con Enzo Castro, volto storico dell'Unitalsi, e la professoressa Rosanna De Santis, durante il quale sono intervenuti il dottor Vito Modesto, spesso in Africa, e il dottor Giovanni Ciccarone. Tra i presenti all'incontro, ha raccontato ai microfoni di Radio 00 Suor Graziana, c'è stato che ha manifestato l'intento di aiutarmi con i microprogetti del Senegal, e sono molto lieta per chi ne abbia compreso il valore. La possibilità di finanziare più progetti contemporaneamente ci permetterà di creare più opportunità per i nostri giovani, onde anche impedirne tentazioni da chi offre apparenti e rapidi benefici materiali o sociali, di fatto ingannevoli. Chi vorrebbe unirsi a tal intento potrebbe devolvere una donazione intestata alla Congregazione Suore Missionare della Società di Maria Sita a Brescia.